Mi trovo ai Murazzi, di fronte all'ingresso del porto urbano dove si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione dell'undicesima edizione di Torino Fringe Festival, festival di arti performative che però non si svolgono nei luoghi diciamo così canonici della cultura e dell'arte ma in spazi inusuali che trasformano di fatto la città in un palcoscenico diffuso per tutta la città dal 12 al 28 maggio sono 26 gli spettacoli teatrali in programma per 165 repliche per una selezione avvenuta tra addirittura 600 candidature, spettacoli di vario tipo appunto con il teatro sempre al centro e un tema, un tema forte, Unboxing Pandora, quindi un tema legato molto alla scoperta che si lega anche molto bene proprio allo spirito del Fringe Festival abbiamo raccolto alcune dichiarazioni da parte dei protagonisti di questa bellissima manifestazione culturale ora ve li propongo Fringe letteralmente significa margine, bordo, quindi off, tutto quello che non è in che non necessariamente significa essere out ma semplicemente qualcosa che non è nei circuiti istituzionali che dunque non è convenzionale, non avviene in luoghi canonici noi nasciamo sulla scia dei grandi festival off europei, primo fra tutti quello di Edimburgo che nasce negli anni 50 noi siamo più giovani alla nostra undicesima edizione ma diciamo che la nostra natura è proprio questa portare lo spettacolo dal vivo in luoghi informali e non convenzionali come diciamo il marchio Fringe vuole noi facciamo parte di questo circuito che si chiama World Fringe che mette insieme più di 250 Fringe nel mondo tra cui anche il Torino Fringe Festival e in 11 anni abbiamo fatto anche un bello scouting di tutti quei luoghi che non sono appunto teatri convenzionali ma che poi permettono di far avvenire lo spettacolo dal vivo quindi siamo veramente andati a cercare luoghi come i Murazzi del Po storici e con noi anche dal primo anno col magazzino sul Po a musei come il Museo Egizio, il Museo del Cinema, GAM, Galleria d'Arte Moderna quindi davvero siamo andati proprio a cercare tutti questi luoghi che non sono istituzionali o che comunque non da subito hanno la concezione del teatro, dello spettacolo dal vivo proprio perché una delle nostre grandi missioni è proprio questo un po' far inciampare il pubblico nel teatro accorciare le distanze tra artisti e pubblico nel nostro programma, nel nostro mandato di questi cinque anni l'idea è proprio quella di ricucire i vari territori attraverso proprio una serie di iniziative e la cultura è sicuramente protagonista come motore di rigenerazione urbana di sviluppo ecco quindi festival di questo tipo io credo che siano sicuramente più immediati nella fruizione, nella comprensione anche il coinvolgimento del pubblico di cui si parlava è sicuramente fondamentale in questo percorso la cultura a volte è vista come qualcosa di editario il Fringe Festival invece è la vita il tema di quest'anno sarà unboxing Pandora una sorta di rovesciamento impositivo del mito greco di Pandora caratterizzato dalla volontà di scoperta e conoscenza ha a che fare con la curiosità, la pulsione umana a seguire gli istinti, i desideri ovviamente da un vaso fuoriesce tutto, tutto quanto quindi anche un certo caos che però poi si può come dire equilibrare dare un ordine, dare un senso che è proprio il ruolo artistico cioè gli artisti hanno questa grande capacità di saper osservare leggere la realtà, la società e saperla reinterpretare sempre con uno spirito come dire non critico e giudicante o forse sì ma che spinge comunque a farsi delle domande che può anche essere strumento di trasformazione ma in senso positivo e creativo della realtà quindi insomma come dire una fuoriuscita creativa però il Torino Fringe Festival si apre venerdì 12 maggio con lo spettacolo Fire gratuito su prenotazione che avrà luogo nella cornice straordinaria della cabina primaria Iren di piazza Arbarello, una delle poche centrali elettriche sotterranee gli autori ci spiegano il senso e il carattere particolare di questo spettacolo Noi siamo tutti gli artisti che vivono qua ai piedi delle montagne e stiamo vedendo come tutti il clima che cambia molto velocemente l'ambiente che si ritrae e l'acqua che si asciuga progressivamente allora stimolati da queste cose negli ultimi anni abbiamo impostato una riflessione globale diciamo sul fuoco in modo un po' laico cioè ci siamo fatti la domanda di come mai ci è scappato di mano il fuoco siamo partiti, abbiamo scelto di scrivere una parabola dal mondo bagnato, diciamo il mondo delle foreste, delle giungle equatoriali del mato brasiliano tramite i racconti della cosmogonia degli anomami che raccontano il rapporto con la giungla verde con l'acqua, con il cielo e il loro grido di aiuto di allerta perché stanno vedendo dal di dentro la giungla che si sta ritraendo perché l'aggrediamo e abbiamo aggredito l'atmosfera il pianeta inizia bagnato quindi diciamo la vita è bagnata la non vita è asciutta, è secca, è desertificazione e attraverso varie tappe di riscaldamento il live asciuga il pianeta culminando in una grossa suite techno-skunk sulle parole di Albert Einstein che dopo la seconda guerra mondiale non si pente ma fa riflettere sul fatto che le bombe atomiche, le energie atomiche erano state costruite per bloccare la seconda guerra mondiale erano riuscite a bloccare la seconda guerra mondiale ma probabilmente avevano creato un mondo ancora peggio Fire nasce dall'idea di in un'epoca di post-produzione e di post-verità in un certo senso estrema estremizzata dall'idea di fare invece un gesto completamente live che è qualcosa veramente ormai di quasi arcaico nel senso che la band suona ed è dabbata e mixata dal vivo questo è diventato anche un disco quando è stato fatto nel 2020 con Adrian Sherwood che è una leggenda del dub inglese in questo caso viene riproposto con un altro dub master mentre questa colonna sonora viene creata e plasmata live un film sul tema del fuoco e della distruzione del pianeta da parte dell'uomo dalla scoperta del fuoco scorre sul tulle e quindi come dire è proprio l'idea del gesto che in qualche modo si riallaccia al concetto di unboxing di quest'anno del Fringe nel senso che l'unboxing è la scoperta dell'ignoto e quindi insomma il discorso è questo cioè la creazione estemporanea del contenuto artistico come dire grazie a tutti